salve a tutti ragazzi allora un po di pazienza che stiamo organizzando la prossima indagine speriamo che sia un po più fruttuosa dell'ultima che abbiamo fatto e vediamo se ci riesce a trovare il posto che sia abbastanza decente se riusciamo a mettere insieme i componenti del gruppo che faranno l'indagine perché non è facile manco quello poi vi faremo sapere dove quando e infine se c'è qualcosa di buono e riusciremo a fare una serata importante metteremo il video su youtube e anche sul gruppo facebook un abbraccio a tutti da stefano del grp continuate a guardarci invitati gli amici e mettete mi piace insomma partecipate a questa grande famiglia ciao ragazzi